Amici di Fulvio delle sue ricette benvenuti oggi un primo fresco e buonissimo la pasta al pesto di limone davvero facilissima da fare partiamo cuocendo le patate in acqua fredda con un pizzico di sale e il coperchio le fate cuocere a fiamma media adesso prendiamo un limone ovviamente non trattato un limone biologico lo lavate bene lo asciugate e con l'aiuto di un pela patate togliete la buccia mi raccomando togliete solo la parte gialla perché la parte bianca risulta amara quindi fate questa operazione molto molto attentamente prendete qualche stricetta di limone e la tagliate a stricioline sottili 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 a julienne questo ci servirà per decorare il piatto alla fine lo mettete da parte il resto invece lo tritate in maniera molto molto sottile fate questa operazione velocemente in modo da preservare i profumi del del limone lo mettete da parte deve essere davvero molto molto sottile adesso una volta le patate cotte andiamo a schiacciarle io lo faccio con tutta la buccia vedete questo metodo è davvero veloce e facile e vedete facilissimo davvero un gioco da ragazzi andare a schiacciare le patate e andiamo a premere il limone prendendo solamente il succo lo mettete da parte adesso un bicchiere classico per frullare stretto e alto aggiungiamo le foglie di menta e di basilico una manciata di pepe un pizzichino di sale e ancora aggiungiamo le mandorle pelate il succo di limone e adesso anche l'acqua un mezzo bicchiere d'acqua l'aglio e andiamo a frullare il tutto e aggiungete di tanto in tanto un giro d'olio extravergine d'oliva andiamo ad funzionare con l'olio per rendere tutto molto molto vellutato deve essere una crema molto liscia vedete questo del composto ideale cremosa e liscia adesso aggiungiamo le scorzette di limone amalgamiamo e tutto e il nostro pesto è pronto lo regolate di sale e pepe se è necessario adesso non ci resta che spostarci dai fornelli l'acqua bolle saliamo buttiamo giù la pasta e la cuociamo bene al dente trasferiamo poi il nostro pesto in una ciotola insieme alla pasta e amalgamiamo il tutto aggiungendo se necessario dell'acqua di cottura quindi girate bene questa operazione deve essere molto molto veloce ovviamente per non raffreddare troppo la pasta anche se l'acqua di cottura calda vi aiuterà a tenere la temperatura della pasta appena è ben cremosa la potete impiattare e servire servite questa pasta in un bel piatto colorato fate delle porzioni generose mi raccomando cremina sopra andiamo a finire con la zest di limone quelle striscioline che abbiamo tagliato in precedenza una fogliolina di basilico fresco ed ecco qua i fusilli al pesto di limone sono pronti come avete visto facilissimi da fare davvero molto molto cremosi un piatto fresco da fare velocemente io vi saluto non mi resta che assaggiare questo delizioso piatto insieme a voi invito a seguirmi nei miei canali social iscrivetevi al mio canale youtube ciao a tutti da fulvio alla prossima ricetta